Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo showcase! È il turno stavolta dell'universo 9 di Basil, di Lavender, ma soprattutto di Bear God Mode, raga, voi non avete idea di che cosa ha combinato in questo showcase, cose che non mi sono riuscito a spiegare nemmeno io per come siano successe, e altre che invece, ok, ecco perché c'è Gode nel tuo nome. E raga, non voglio tenervi qua più del dovuto, voglio giusto chiedervi, come al solito, un like per il supporto sulla fiducia, e dopodiché, se siete nuovi del canale, vi invito anche caldamente a premere su quel tasto iscriviti, per non perdervi nemmeno uno dei prossimi contenuti che andrò a pubblicare. E detto ciò, raga, direi che siamo prontissimi per partire. Sigla! Eccoci qua con il nostro bel team Universo 9, con la partecipazione di Vados, Jiren e Toppo, principalmente per la panchina. Forse qualche volta Vados potrebbe essere portata per l'abilità da support, ma ci concentreremo sui tre lupacchiotti, tanto cari alle mie pullate, in quanto sull'ultimo banner non mi uscivano che loro tre. Quindi, raga, ci sarà da divertirsi? Assolutamente sì! Sì, vi mostro gli equipaggiamenti che ho assegnato a tutti quanti, e devo dire che a sto giro, rispetto al primo showcase che avevo fatto un po' a sti lupacchiotti, sono messo molto, molto meglio, sia di equip che di stelle. Quindi, non c'è molto da aggiungere, andiamo a mangiare pasticchi insieme a Basil. Via! Universo 9 contro un mix di universi. Green Green Pur, ho fatto bene a portarmi il buon Lavender. E' tutto! Ok! Infamous! Tanchiamo, tankiamo con Bergamo! Vai che tanki bene! Fermati, fermati, fermati! Ok, 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 ok! Lavender! Nice! E ora pigliati sta bombetta di veleno! Oh, Jiren, quanto te la sei tankata! Oh, bravo! Bravo, 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 bravo! Ok, tank, tank, tank! Di Bergamo! Ok, nuovamente full HP! Nice! Speravo entrasse, vado, raga! Cioè, pensavo più che speravo! Uh, bene, 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 bene! Avviciniamoci! E ora possiamo ultimatizzare chiunque entri! Va bene, Jiren, se la tankerà un botto! E' un tank a quanto pare, Jiren! Ah no, solo la prima volta tanka, stavolta... No! Bravo, Bergamotto! E' un Jiren in meno! Ok, clash! Eh, 9-3-4! Buono, buono, buono! Abbiamo trovato qualcuno che è più scarso di noi! E forfe, raga! L'universo 9 induce a questo! Prossimo mash! Zenkai Family! Contro un certo Majin forfe! Non so se ce l'abbia con me! Eh, finisci, tiersi! Ok! Molto cauto! Incassiamo sulla Vendor, purtroppo! Bergamo, puoi tankare qualcosina! Potevi! No! Ti dico no, Chitku! Ok, ok, ok! Un cover è andato! Nice! Ok, gone! E sapete che rushiamo subito? Perché contro uno Zenkai Family questa occasione non ce la sprechiamo! Proviamo Blast! E in ogni caso gli abbiamo dato il veleno! E c'è la zecca! Molto bene! Ok, pugnetti! Ok, pugnetti! Oh, nice! Nice, nice! Oh, nice! Oh, belli sti danni! Fermati! Fermati! E rifermati! Ok, stavolta mi ha preso! E rush! Sacrifichiamo la Vendor, raga! Che è quello messo un po' peggio! Oh, ok, ok, ok! L'abbiamo azzecchiato anche noi! Ok! Le bombe di Chitku! Va bene! Personaggio equo! Eccolo qua! Ce l'hai fatta! Bravo, zi! Ok, preso! Eh, la Vendor qua mi sa che... No, non ce la puoi fare! Non ce la puoi fare, bro! Nemmeno con un miracolo! Ma era morto! Non è valido! GG, Majinforfe! Hai spaccato con sto Team Zenkai Family! Hai proprio fatto del male ai miei lupacchiotti! Prossimo match! Uh, Goku! Shield Goku! Shield Goku Ultra! Ok, Team di Goku! Col nuovo Goku Revival! Nice! Vai, 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 vai! Super Basil! Vai, Super Basil! Vai, Super Basil! Non male, raga! Clashone! Ok! Ok, ok, ok! Penso che stia rosicchiando aver perso di 3! Woo! Ok! Ah, bravo, bravo, bravo! Lo sai che recupero il Ki con sta roba! C'è che recupero il Vanish! Bergod Mode! Sei un po' baffato! Sta iniziando a baffarti! Come un pazzo! Vai, andiamo subito che quantomeno si spreca il Revival! Perfetto, perfetto! Vai, fai partire il tuo Ki Blast! Colpisci ti al cuore! Ah, stavo per fare Rising che moriva definitivamente subito! Sarebbe stato bello! Ok, poppiamo! Mmm, ok, ok, ok! Tanto dolore! Tanto, tanto, tanto dolore! Ok! Swishiamo! Eh, spero... No Faint, please! Bene! Ah, ma è partita! No good, no good! Ok, Vados! Torna in tempo! Shishotta? No! Bene! Ottimo preso! Vai, Basil! Basil Instinct! Grande! Fragato male! Ok, ok, ok! Preso! Oh, ma preso lui stavolta! Nice! Eh, qua so cazzi! Qua è molto tesa la situa, proviamo di Blast! No, due Blast! Carta verde! Mi shotta, raga! Mi shotta, raga! Mi shotta, raga! Ok! Bergamo! Ma che cosa me ne frega Di pullare questo Goku Quando io c'ho Bergamo A 14 stelle Raga, che se lo mangia! Prossimo match! Team Android Ci tocca mettere il turbante Ok Abbassiamo il key recovery Ah, il mio Vanish Ancora! Ok Va bene, va bene Fortunatamente Bergamo Tank Allontanati Blast Dato che non ne hai Visto che l'hai appena Trasformate tutte in Strike Cover rescue Subito Ok, ottimo Vados Intanto Ci ha già caricato un Rising Ma non lo sprecheremo ora Ok, uno Due Nice Tankeggiamo con Bergog Mod Tanto vado Se è già pronta A rientrare In caso di problemi Ok Nessun problema Presa Bene, bene, bene E Bergamo Pare proprio dire Guarda qua Il capobranco Che si sta baffando Questo è l'errore Della vita Raga Uno e due Non mi serve Rising È vero che lei si guadagna Il recupero In due secondi Ok, le facciamo Un botto male Comunque E non abbiamo Sprecato un Rising Va bene Va bene Va bene Male Vados Dobbiamo sacrificarti Pensavo Mi attaccassi In un qualche modo Invece Pam Dritto per dritto Con Rising Ok La salviamo pure Ottimo E non ci ha fatto danni Praticamente Va bene Carta verde Mangiami pure 21 Mangiami Mangiami 21 Però poi ti prendo a calci Nice È nice Una 21 in meno Ok Ottimo E Ti stai disconnettendo Bro No Sembrava di sì Basil Goditi Questo win Screen Team Goku e Krillin Bello serio Bello Zenkai E con Goku Ultra Ok Partenza aggressiva No Cover change Incassiamo Non mi ha preso Non ho fatto io Il vanish Raga Mi sono addormentato Krillin Anche basta Grazie Ok Ok Vodos Carta verde Ma Non sto capendo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Raga Ok Krillin Shield Bro Ma per caso Sei così aggressivo Vediamo se lo tankiamo Raga Boh Blast Ne ha tante Una Due Ne aveva tante Strike Forse riusciamo a tankarcelo Bergamo Credo in te Credo in te Sì 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 Mamma mia Che personaggione Ok No Oh Oh Com'è successo Raga Com'è successo Non ho capito Come sia successo Raga Switch subito E Bergamo Nuovamente Quasi full HP E Bergamo Raga Può passare Attraverso I counter Di Goku Calmati Calmati Bro Ok Ok E stavolta Ci teniamo Basil in campo Pronto a mazzulare A crittare Lasciamo Raga Anche se renderò Più potenti Tutti gli altri Voglio togliermi Uno di mezzo O almeno Provarci Ok Ottimo Quanto Quanto meno Ora siamo 3v2 Anche se uno Specialmente Iperbaffato Ok 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 Grande Bergamo Mamma mia Quanto mi piace Sto personaggio Addio Goku Ultra Ok Ok Messo in combo Direi che Ce la spariamo Finché Siamo belli Baffati Con tre Personaggi In vita E Shitku Sarà un casino Da buttarci Comunque Servono Tutti Power Ranger Al completo Qua Wow I danni No Blocchiamo Anche le strike Ed è quasi Andato Ok Doping Doping Basile Puoi battere Anche Shitku Raga Ma quante Soddisfazioni Questo team Quante Soddisfazioni Questo team Non c'è neanche bisogno Di parlarne un attimo Ci vediamo nel prossimo video